Ehi no ragazzi, ciao a tutti da Nick e ben arrivati su Little Big Workshop Allora ragazzi, non ho messo la web perché ho pensato Boh, ma non credo che in questo gioco sia una cosa così importante la web Non faccio espressioni e cose varie Quindi almeno potete guardare a schermo intero tutto il gioco insomma Quindi ho pensato, non serve e non l'ho messa Dunque, che è sto gioco qua? Ma a quanto ho capito in questo gioco bisogna gestire una fabbrica Dobbiamo creare oggetti Si parte da un piccolo garage e bisogna poi espandersi Per creare insomma la propria fabbrica dei sogni Quindi insomma creare oggetti Non l'ho mai provato sto gioco, è la prima volta, non so come si gioca Benissimo, quindi stiamo a posto Bene, nuova partita, nome fabbrica Eh, 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 l'avessi saputo prima guarda Ci perdevo mezz'ora a decidere il nome della fabbrica Ah, Boh, la chiamiamo Boh, la fabbrica Boh, che ne so Boh, la fabbrica Boh, benvenuti alla fabbrica Boh Vi pagheremo? Boh, non lo so Anche su questo ancora non ci ho pensato Premio un tasto qualsiasi per continuare Eh, cavolo, perché non mi avvisavi prima? Adesso sono indeciso Ne ho schiacciato uno a caso Ok Chiaro, mettiamoci un po' di olio in sta porta Eh? Ecco Allora io sono il capo Mi devo sedere Giusto? Credo Oh, che simpatico Mini Ah, quindi praticamente funziona tutto sul tavolo Oh, come va veloce sto tempo Un attimo, fatemi capire come funziona sto gioco Quindi, raga, è un gestionale sto gioco È un gestionale E, ok, ho capito che mi muovo così E poi, devo usare il telefono Eh? Ho appena aperto un nuovo negozio vicino alla tua fabbrica E dato che sei nuovo di queste parti Eh, pensavo che potremmo aiutarci a vicenda Che ne dici? Procuriti un banco da lavoro e preparati Potrei avere, potrei avere presto bisogno di te Un banco da lavoro Allora, quindi il tutorial Cominciamo un po' a capire sto giochino Dunque, postazione per il legno Tutto inizia con il lavoro manuale Statistiche, postazione di lavoro Ok, io i simboli non li conosco Però, vabbè So che ho 2475 monetine Quindi, c'è lo zoom Bene Ok, allora Mettiamo il banco da lavoro Direi che va bene così Ok Ah, devo ordinarlo Dettagli ordine Postazione per il legno Mi costa tutti i soldi che ho Io non ho capito Ah, no, 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 no Io ho 20.000 Ho 20.000 Ah, allora era il prezzo del tavolo Ok Ok, ok Le postazioni di lavoro ordinate richiedono tempo per essere consegnate e installate Allora, mettiamo il gioco normale Quindi questi sono i miei lavoratori Diciamo un po' stagionati Non so, proprio giovanissimi Non sono dei giovanotti E non so neanche cantanti Non so neanche degli albani Cioè, non sono giovanotti Non so albani e romini Insomma, ragazzi Stavo scherzando Oh, ma sei vecchietto, compatti Spacchi la schiena così Eh, porca miseria Turistico che succede qualcosa di brutto Dai, piano piano Ah, vai a porte Ah, meno male Una l'accia entrata ti porta Menomale Ah, andi dai Va, poi ti riposi Una settimana di riposo Perché te sei proprio Spaccato la schiena, cavolo Oh, c'ha le dita Ok Un po' telefono, telefono, telefono Ah, questi sono ignomi da giardino Puoi realizzarne qualcun altro Ah, devo creare ignomi Pianifica la realizzazione di questo prodotto Vai a piano Che significa vai al piano? Ok, un attimo Questa è la modalità pianificazione Fondamentale per progettare e organizzare Nei minimi dettagli La realizzazione di tutti i tuoi progetti I nodi quadrati come questi Rappresentano prodotti a parti Dalle umili assi di legno Alla sotto unità più complesse I nodi circolari come questi Rappresentano operazioni Ovvero le azioni compiute Dai tuoi lavoratori Alle varie impostazioni Non ci ho capito niente Vabbè Questo è il prodotto finale Oh, ok Quindi da tre pezzi di legno C'è famo uno gnomo I nodi operativi necessitano Di una postazione di lavoro Per essere portati a termine Ok, e quindi Ci ho cliccato Clicca destro Che devo fare Boh Non ci ho capito niente Non l'ho proprio ben capito Quello che ho fatto sinceramente Allora gnomo di legno Piano 1 Ok Quantità 3 E 6 Ok Pian pianino raga Cerco un po' di capire Sto giochino Intanto la spazzatura Com'è da svuotare Vediamo un po' come sto gioco raga Non so Vediamo se vi piace Praticamente Praticamente questo gioco Mi è stato consigliato Da uno di voi Ed eccolo qua insomma E vediamo un po' com'è Ovviamente se Vedo che c'è interesse Può essere che lo riporto Se no niente Che cos'è Non c'è abbastanza spazio Per pezzo di legno Crea un deposito merci Assegna un'area Deposito Per i tuoi cosi Ehm Ah Ehm Il deposito Lo famo qua Così penso che Però dovrebbe bastarmi Che devo fare poi Ah Qui puoi Seguire i tuoi progressi Sì 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 Velocizzare il tempo Mi pare una buona idea Ah Ok Era arrivato Sono arrivati i legni E qui c'è Uno gnomo Ne abbiamo Uno di Tre Praticamente Questo cosetto Qui piccolino Dovrebbe Trasformarsi Dovrebbe Trasformarsi In un vecchietto Con la barba Qua c'è il secondo gnomo Se ho capito bene Guardate com'è carino L'ognomino Vediamo un po' Ok Così muovo la telecamera Così non succede niente Ah Così la giro Niente Sto provando un po' i comandi Avanti Andiamo avanti Forza Fammi sto gnomo Consegna Il camion è arrivato Ah Se li vengono a prendere Ah Io pensavo che si trasformavano Eh Niente Perché Questi mi assomigliano A degli gnomi Quindi ho detto Magari si trasformano Alla fine gnomi Il camion è arrivato Alla piattaforma di carico E che devo fare Io Niente Avanti Forza Andiamo Travalliamo C'era una volta Ah C'era una volta Io ho sentito C'era una volta Ah beh Giustamente Effettivamente Gli gnomi Sembrano proprio Da storia Quindi c'era una volta È giusto Allora Accedi Al Tuo Riepilogo Finanziario Per aver Per assicurarti Di aver guadagnato soldi Ah beh Speriamo Al termine di questa Introduzione I lavoratori Dovranno essere pagati Pure Ho capito Allora Affitto Zero Nuovo inventario Cioè Il fatto che abbiamo Comprato sto cosa Pagamente ricevuti Abbiamo guadagnato Una miseria E meno male Che non ho pagato Gli operai E appena è arrivato Il carico di gnomo di legno Hanno un aspetto fantastico La gente ne va già pazza Spero che Faremo altri affari Insieme in futuro Ok Va bene Mettiamo il gioco normale Telefono Ok Vuole altri gnomi Scaffali Questo vuole scaffali Per esporre i gnomi Allora Devo un attimo capire Sta cosa Pianifica prodotto Ok Gli attributi Indicano la qualità Del tuo prodotto Questo contratto Hai dei requisiti Per gli attributi Gli attributi Sono determinati Dalle parti E dai materiali usati E che devo fare Le scelte con lo sfondo Rosso Sono impossibili Da soddisfare Con la configurazione Attuale Selezione elementi Diversi All'interno del piano Per rendere disponibili Oppure opta Per una scelta Con lo sfondo Chiaro Non ci sto a capire Un attimo La storia Qui Un momento Non sto bene a capire Eh Scei Selezione Materiale Con cui Rilizzare Questo prodotto Eh ma Non sto bene a capire Che cavolo Ah ah Ok Mo l'ho capito Credo Allora Obiettivo almeno due E io c'ho due E quattro Beh Quindi Qual è il problema Lo so io Boh Ma penso che Più o meno ci siamo No Scegli i materiali L'ho fatto Mo Eh Boh Soddisfa gli attributi Acquista postazione Di lavoro Sì ma Il gioco Mi sta mettendo Un po' di confusione Mo Perché Non sto bene a capire Ah Legno Beh certo Legno E questo Che cacchio è Eh raga Non è proprio facile Scegli un tipo Di operazione Per questa parte Collega L'operazione Alla postazione Di lavoro Ah Beh se voglio Velocizzare i tempi Dovrei prendere Altre postazioni Da lavoro Così faccio Faccio fare tre cose In uno Ah ok ok E questo cos'è Acquisto una postazione Di lavoro In grado di eseguire Questa operazione Mi serve Una Eh Pian piano Ragazzi Cerchiamo di capire il gioco Un'altra postazione Di assemblaggio Veramente Ok Boh Lui dice che Devo prendere questo A me mi sembra La stessa identica cosa Che abbiamo già Fatto Ci siamo Ma mica tanto Eh cavolo L'ho fatto Mettiamo il gioco Una Ah ordina Ok Mettiamo un attimo Il gioco veloce Raga Devo capire Stessa storia Chiaramente Oh Eh Per me è tutta una roba nuova Ah no Non è uguale Parevo uguale Ma non è uguale Sembravano uguali Ok Oh Ok Devo dire che ancora Non ci ho capito niente Di tutti sti collegamenti Vabbè Ovviamente Non esiste un gioco Che all'inizio Non sia difficile Direi no Ok Allora Complete contratto E consegni ai prodotti Stiamo creando scaffali Camino arrivato Alla piattaforma di carico Ancora credo Che ci troviamo In tutorial Difatti Uno dei tuoi lavoratori È svenuto per la fatica Mi sa che vuole Qualcosa Da bere Caffè Zona relax Espresso 2000 Mamma mia Lo vorrei pure io Allora facciamo così Questa sarà la zona Ristoro Almeno per ora Questa sarà Almeno per ora La zona ristoro Qui Si lavora Qui magazzino Diciamo una roba simile Per ora Avanti Comunque Ma chi è un bambino Aspetta un po' Allora Vado un camion Ammazza Questa femmina È Diciamo che Dalle protuberanze Mi sembra così Oh piano Spaccarotto Ma chi è che Se lamenta qua Ah è la signorina Qua E me lo monta E che ho Le istruzioni Non lo so montare Io Mi lasci le istruzioni Mi scusi Beh comunque Se volete La webcam In caso Fatemelo sapere Cioè io ho pensato Che sto gioco Non fosse necessaria Cioè non so neanche dove Metterla Per non occupare Posti magari Utili Per il gioco Per farvi vedere Un po' Il gioco No Allora Ci abbiamo La caffettiera Qua Quello che è Eh basta Che vuoi Ancora Eh troppo lusso Vogliono questi Eh 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 Cioè bastano Eh basta Decorazioni No 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 Niente Niente Ok Posiziona più oggetti Nella tua sala Relax Ah Ah ecco Quindi vuole più roba Eh Non lo so Questo Da Caffè E qualcos'altro E allora Boh Tavolo Eh andiamo qua Mettiamoci un tavolo Che ne so io Un tavolo Avanti Ci abbiamo anche il tavolo Speriamo che va bene Ma quanto dorme Quello Non si alza mai Non se ne poteva andare a casa A dormire questo Che mi deve dormire Nella 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 Lavoro Eh Ma nina nanna Ma che dice Zone Non puoi posizionare Le zone all'esterno Sì ma io Il fatto è che Vorrei capire Se ci possiamo Anche allargare Capite Perché Modalità Pianificazione No Non è questo Che mi interessa Mercato Mercato È chiuso Base No più che altro Volevo capire Se potevo creare Altre stanze Perché È stretto qui Ancora Ma che vuole questo Ma quanta roba vuole Ma tutti sti soldi Devo spendere io Ma poi ci passa Eh Lo dico pure io Eh Eh Non lo so Mi sta facendo Spendere un mucchio Di soldi Alla fine Alla fine Della giornata Non avrò guadagnato Un figo secco Oh Almeno non mi dice Più che Ok Ecco Volevo un mucchio Di roba Quel tizio Si è svegliato Era ora Eh Avanti dai Travalliamo Forza 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 Che qua Il contratto Ci aspetta Sinceramente Credo che Di sto banco Beh No no Non mi fa comprare Niente Perché Si sblocca Proseguendo Eh no ma Io volevo uno di questo Banco da lavoro Non si può Postazione Che se come si chiama Non so manco Come si chiama Sto coso Ma neanche questo Volevo comprare Un altro di questo Ma mi sa che Non si può fare Vabbè Qui è tutto bloccato Vabbè Ancora tutorial Insomma Sicuramente ancora Stiamo nel tutorial Allora Mettiamo il gioco Straveloce Perché tanto È inutile Diciamo così Andare a velocità Normale Non ci risolvo niente Che sta dormendo Quello Che cacchio sta facendo Ehi Boh È indeciso Ah era stanco Vediamo Che sta facendo Non fai un figo secco Aspetta Ti gratti la barba E i pulci Che c'hai Ah se la ridi Eh ridi Allora E intanto E intanto questo lavora Eh A mezzanotte Lavora Questo Dai 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 Forza Siamo al 93% Ale Era ora Consegna Qui dice Auto Alfa E beh Per ora C'ho solo Un punto Di consegna Quindi Automatico Andrà benissimo Il camion È in arrivo Fichissimo Però Ragazzi Dove arriva Sto camion Camion Buh Ai ai E dove è uscito Dove è arrivato Non l'ho visto Buh Non c'hanno niente da fare Si incontrano Andiamo Cariciamo Dai Vale Dai che pure la gallina canta È appena arrivato il carico di scaffale Hanno un aspetto fantastico Pagamento ricevuto Eh Ok Nel frattempo Ti suggerisco di dare un'occhiata al mercato C'è un sacco di gente da queste parti Che ha bisogno di vari tipi Ah ok Ho capito Magari dice Magari uno dice Eh a me me serve questo Me serve quello Ok Questo è il mercato generico I prodotti qui mostrati Sono sempre molto richiesti E presentano quindi Una fonte stabile di guadagno Ok Tipo Scegli contratto Creare Kit Sabbiera Le etichette ti daranno un'idea approssimativa Del tipo di prodotto richiesto E questo è Ah plastica Qui trovi il prezzo e la domanda attuale per questo prodotto Eh Un momento Quantità consegnabile 7 Prezzo 120 Ok quindi più di 7 non ne dovrei creare Perché non ci risolvo niente Questi sono gli attributi da superare Affinché la produzione venga accettata Questo prodotto non sembra adatto Questo prodotto non sembra adatto Perché non è Né molto richiesto Né particolarmente redditizio Eh In più ci vuole la plastica Che non possiedi Ah ok Era giusto per farmi capire Che devo stare attento a quello che scelgo Questo prodotto è molto meglio di quello disponibile in precedenza Infatti È infatti facile da produrre E si vende a un prezzo più che accettabile Eh a voglia Quattro e sessantadue e sessantacinque Ok ricevuto Quindi Eh Che devo fare Scegli pianifica Ok Cos'è sta roba Operazione non impostata Allora l'importante è che superiamo Uno e quattro Quattro uno E piamo Decorazioni sopra Decorazione sopra sopra Ma che cambia A me sembrano quasi Quasi Ah Ok No preferisco il quattro sotto E questo Allora Ma tecnicamente va già bene Due Quattro Uno tre Ma cambia il prezzo Ah si che cambia il prezzo No no Ah no aspetta Attuale Due sette Eh doveva andare bene Sì doveva andare bene Potrei risparmiare No questo è il minimo Ok Collega Ok Collega Ma perché Clicca su una pos- Aspetta Perché me la da tipo rossa Ok Poi collegato E questo Eh ma scusa Scusa E' già collegato no Oh Assembla Ok Tutto a posto Imposta quantità Obiettivo a sette prodotti Perché sette Ah perché di più Mi sa che non me ne posso permettere E se io ne volessi fare No no Deve essere sette per forza Ok Allora Pagamento Profitto Come pago Pago di più E profitto di meno Boh Ok Non lo so Vai Boh Eh pian pianino Si capirà Clicca con il postante destro Di lavoro Per esaminarla Questo lavoro Richiederà parecchio tempo Per essere completato Eh Postazione di assemblaggio Ah quindi ne compro un'altra Giustamente E appunto no Ok Quindi ordina Esaminarla Come Dividi Ah dividi Ah si 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 Ok si si ho capito Ho capito Ho capito Quindi il resto Verrà creato In quest'altra postazione Trasferisci uno di questi Incarichi Sulla nuova postazione Eh Ah Ok Assumi qualche Lavoratore Assumi un Operatore L'ho fatto Renzo volanti Questo sa volare Completa il progetto Ok Vai Vai Renzo Travaglia Forza Renzo Non perderti troppo In chiacchiere Renzo Ok Che è Il camion è arrivato Mi sta portando L'altra Cosa qui Di assemblaggio Bisogna di assemblaggio Quello sembra che magna Anche Renzo È appena arrivato Renzo Già pensa a mangiare A perdere tempo Dai Traviamo Completa il progetto Ancora siamo lontani Dal completare il progetto Forza 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 Che un'altra giornata è passata E qua soldi stiamo messi male Che cos'è questo coso Che vuoi Che disastro Madonna Mi servono altri Ehm Gli servono a questo altri ignomi E l'unica cosa qui Accetta Eh no Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Prima farmi finire quel contratto Poi te faccio il tuo Bello Eh Una cosa a volte Non è che qua Mo metto a pianificare Mezzo mondo Ehm Non ce n'è fretta Se avevo cinque contratti Lì cominciavo a pianificare Ma qua c'ho tre giorni di tempo Mo che fretta c'è Subito subito mi servono Tre giorni c'ho Che fretta è Oh Andiamo Pozza Qua abbiamo quasi finito E ancora caffè Oh Piano Renzo Ti fa male tutto sto caffè Accedi al mercato Consegna Cioè io ne potevo fare 65 No Fanne 7 Fa schifo se ne facevo di più Guadagniamo Guadagnavo troppi soldi Poi è vero Sgraziato Potevo fare ben di più Allora Il camion è arrivato Pianifica No Voglio vedere i soldi che mi arrivano Avanti dai forza Carichiamo sta roba dai A posto Finito i soldi Me li da Perfetto Sono arrivati i soldini Va bene ragazzi Per ora penso che me fermo qua Non lo so Boh Vediamo se il gioco vi piace Porto dei video Dai Se vedo che c'è un po' di interesse Magari ragazzi lo continuo Vediamo un po' Dipendo da voi ovviamente Come sempre Perché se non vi piace Eventualmente Chiaramente punterei su qualcos'altro No Quindi ragazzi Spero che il gameplay vi sia piaciuto Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Vi ricordo che in descrizione Vi lascio un link Che vi permette di comprare Questo gioco qui Scontatto Vi saluto Ciao alla prossima Ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti